Abbiamo altri dieci giorni per ricaricare le energie per casa Fusterlengo, sappiamo che non sarà facile, alcuni dicono che siamo i favoriti, alcuni dicono che casa Fusterlengo è buona. Noi dobbiamo essere solo concentrati e vincere tutte le partite in casa, quindi comunque abbiamo una faccia del campo, quindi se noi vinciamo tutta la casa passiamo. Ma innanzitutto abbiamo vinto un tipo, non so, un dieci gare di fila, quindi ovviamente ci poteva stare una sconfitta, comunque erano i play-off, sappiamo che comunque Ferrara con la partita lì sarebbe arrivata concentrata e con la voglia di vincere. Però con le difficoltà anche da parte degli arbitri, un po' che ci hanno rallentato la partita e altre cose, comunque niente. Contro il casa Fusterlengo i più forti comunque secondo me sono Santros e Young, sono i realizzatori più grandi di casa Fusterlengo, comunque anche Chiumenti, Evencato e Buonessi sono dei buoni giocatori, quindi non sarà facile.